Cerchietto extension, un nuovo stile firmato Paris Hilton, cosa vuole dire e da dove nasce? Cosa vuol dire bellezza per Paris Hilton? Cosa vuol dire che è in Bologna? Sono qui per il show Cosmoprof Cosmoprof, quindi sarò qui nel posto vendendo i capelli e fare una partita oggi, a uno dei club di notte. La parte del corpo che ti piace di più di te stessa? Mi piace le mie lecce. Mi ha l'ambra.